Tutti i miei animali sono morti Anche i miei Me li hanno bruciati Io sono entrato ho trovato del fuoco E tutte le mie galline morte Signor maialino è morto Almeno quella è una buona notizia infatti Almeno lui Però le mie povere pecore Non è giusto E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Steph e che stai giochendo a Minecraft E siamo tornati nelle nostre Sky Reams Oggi siamo prontissimi a giocare Perché Steph mi insegnerà a fare Un cobblestone generator automatico Anche se c'è da dire che io in questo momento Sono molto arrabbiata Molto arrabbiata e infastidita perché hanno dato fuoco Non so come i miei animali Esattamente io credo che abbiano trovato un modo Di interagire con le varie isole E mettere fuoco alle cose Perché a entrambi è successa la stessa cosa Tra un episodio e l'altro Quindi non credo che sia una coincidenza Ma poi c'è Con che cattiveria Dico io bruciami un albero Non gli animali Che si bruciano la faccia da sole Altro che Vabbè 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 Oggi insegnerò a Feriniki A fare un cobblestone generator automatico Però c'è un dettaglio Non lo so fare neanche io E allora cosa mi vuoi insegnare? Allora io guarderò un video Mi vuoi insegnare a guardare le cose? Io guarderò un video spiegazione su come farlo E dopodiché lo farò E te lo spiegherò Scusa un attimo Sì Io potrei guardarmi il video da sola Non avrei neanche bisogno di te No 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 Sai perché? Perché? Perché potresti non capirlo No non c'è bisogno Le video spiegazioni sono sempre semplici No E comunque è più probabile Che non capisca te che il video è Cioè giusto per dire È giusto per dire È più probabile che io direttamente Non capisco il video Che c'è? Ho visto una cosa Cosa Ferè? Corri Non posso correre che ho la fame e basta Dimmi Ferè Guarda Ho dei polletti Aspetta aspetta Vieni Polletto Ferè 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 Tieni questo Tieni tieni Porta la casa Ma io lo rivoglio nella mia Sono i miei polletti scappati No non sono i tuoi Non sono i tuoi Vieni Polletto Vieni vieni Abbiamo un recinto fatto apposta per te Prima di tutto Sistemo tutti gli oggetti Che ci serviranno Per fare questo Cobblestone generator Automatico Ok Hai già tutto pronto? Sì E mi ha buttato fuori Anche a me Allora Questo è già un segno Allora Oggi è una giornata sfigata Te lo dico Perché io entro dove i miei animali morti Mi buttano pure fuori qua Non va già bene È morto il server? Sto riprovando Che dici Ferè? Sto riprovando È davvero crashato tutto per sempre? Io sto rientrata Ah sì? Aspetta Mi sta facendo un countdown Perché mi dice che in questo Ah no è offline Davvero? Sì mi dice che in questo momento Io non posso ritornare alla mia isola Ah così proprio Sì Tenete vai Iniziate il video al meglio Allora Quando rimettete il server Voglio il doppio degli animali Perché sennò io vi ammazzo Ve lo dico Il doppio Il doppio Come dovrebbero comparire? O chi dovrebbe sentirti in questo momento? Tutti Perché sono su YouTube E tutti mi ascoltano Non proprio Dopo tipo tre ore Il server è tornato up Quindi possiamo continuare Allora 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 E guardate un po' Sono riuscito a farlo Nella mia isoletta Ferè dimmi quanto sembravo? Zero Ti faccio vedere come funziona? Sì sì Sono molto curiosa Voglio vedere Praticamente ci sono degli hopper qua sotto Ok Tu vieni qua col piccone Stai semplicemente ferma E automaticamente il sistema ti rimette la stone Quindi tu devi stare solo ferma E automaticamente prende tutto Se tu fai tasto destro su questi hopper Hanno tutti i materiali Quindi raccogli tutto quello che hai farmato Esatto Poi volendo ovviamente l'hopper lo combina ad una cesta In modo tale da non averli stare a svuotare ogni due secondi Ovviamente Ovviamente Perché tre Perché mettendo un piccone in diamante potenziato Riesce a farne tre alla volta a raffica Quindi è pensato al massimo potenziale Il tre è il numero perfetto in questo caso Esatto Ok 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 Quindi andiamo a farlo nella mia isoletta Sì Ho sonno Anche io sono stanca Cioè pensate che è crashato E nel frattempo abbiamo fatto in tempo Anche se è una ripetizione di parole A registrare pure un altro video Da quanto ci ha messo a tornare online Quindi siamo stanchissimi e tardissimo Quindi muoviamoci a fare Siamo stati fregati dai crash Cobblestone generator Qui è dovrà la mia famiglia di poli Ok Andiamo Quanti dovrei dire Allora Dovresti essere triste per me Mettimi tre hopper al centro perfetto della zona Sia in larghezza che in lunghezza Allora direi che la voglio Tanto qui si alza per tre giusto Si alza diciamo in questa colonna che io faccio Diventa un po' più largo Centralizza Mettili al centro Vediamo Ah non me li metto tutti assieme Dovresti essere una volta Due Ok E poi ecco qua il terzo Ok ci sono Adesso metti tre blocchi di cobblestone Alla sinistra e alla destra di questi hopper Uno due tre Si certo Con che fantasia Allora non capisco nulla Smettila Uno due E tre Adesso ci sali sopra e ti metti tre di vetro e tre di vetro Standoci sopra Ok si te l'ho visto fare quindi così Ok E così Si bravissima Ora ci vai sopra e metti altre due stack di pietra E altri due di pietra vai Ok vabbè Cerca di salirci sopra anche tu Metti Ehi Fere Ok 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 Quindi un'altra linea Si vai Ok Allora aspetta che salgo qui Ho finito la cobblestone Davvero Tieni Fere Non ne ho molta quindi non credo che basterà Ok Vabbè tanto no ne ho nelle ceste Il problema è che non me ne sono portata qui troppa Ok Ok ecco Perfetto Allora questo punto Adesso che devo fare? Aspetta sto cercando di ricordare Fere Non sei un bravo insegnante Ci dovresti essere esperto Vai un attimo Allora io so benissimo Perché ti ho visto che ci hai messo una vita a fare il tuo Quindi so già benissimo che non sei troppo bravo in queste cose Quindi non sarà neanche semplice No ma tranquilla Vai a prendere un attimo la cobblestone Magicamente me lo ricorderò Vai 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 nelle ceste Stai andando a vedere un tutorial No Fere Vai nelle ceste Stai andando a vedere un tutorial e mi stai imbrogliando? No no Non lo farei mai Ti sto dando una testa Vai a prendere la cobblestone Ma ne ho troppa Non mi serve Che cosa? Dai facciamo che mi giro Perdenza arrivano a 60 Oh cavolo Sbaglia a prenderla Allora Fere sto trovando l'ispirazione Fere Non è un tutorial Sì Sì ovviamente l'ispirazione arriva dal tuo cellulare Ah certo 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 Mi sono ricordato Mi sono ricordato Ok sì Fere Che memorato che sono Tantissimo tantissimo Allora risali Ma quanti ne devo mettere? Quanto deve essere alto? Adesso scendi nel vetro Ok mi stai rovinando l'isola però Senza game mode è difficile Buchi il penultimo Quindi qua? Sì Ok Ok Tutti e tre Tutti e tre? Sì Ok E metti i pistoni Ok così? Perfetto Bravissima Bravissima Allora devi mettere la cobblestone sul vetro Qua? Sì Ok Bravissima vai vai tutto 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 Ma devo fare un cerchio? Eh sì Un cerchio che però è un rettangolo Esatto Tutto intorno Per me è un cerchio Bravissima Ok per me è un cerchio Continua 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 Ora siamo alla parte un po' più delicata Eh lo so perché adesso dobbiamo fare le cose con la redstone Basta sbagliare un blocchetto e sbagliamo tutto Quindi devo andare di qua? Sì e poi tutto Ok Che faticazzo a spiegarla bene Ma devo rifare tutto il giro? Eh no per ora fermati qua E metti tutto intorno uno di un blocco Tranne che nei tre Cosa mi stai? No allora questo me lo fai tu Basta basta Allora Vieni Salta di nuovo Dammi cobblestone Tieni cioè non lo sai spiegare Io non è che sono un genio E' impossibile No vai Quindi cosa devo fare Mi hai dato tre di cobblestone Cosa me ne faccio? Tieni Bene da fare decentemente No la sto dividendo perché non mi fido Vai 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 Anche se è la tua poi Ah no è la mia Allora vai Allora Questo dovevi fare Ta 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 Togliti dalle scatole Capisci? Cioè ma mi dicevi Fai un bordo sopra L'avrei capito in due secondi Cioè non so perché Ognuno sa di fare Quel blocco Lì Forse messo là Come faccio a capirti? Dai Allora Anche dall'altra parte Lo devo fare giustamente Più o meno Stai calma Stai calma E' la parte più delicata Quindi un attimino Che sto cercando di ricordare Capisci? Ma smetti Sei un buffone Mi sto concentrando Cioè meno male che me lo dovevi spiegare Sì sto fare tutto io Ma quando mai Guarda non sai fare nulla Solo un buffone sai fare L'altezza È giusta Sì ok Quello è l'importante Non ti sto neanche ascoltando I tuoi insulti E' soltanto gelosia questa Sinceramente E' soltanto gelosia Così Così Esatto Ok e poi di nuovo il bordino Giusto? Sì Ok quindi così Vai fare Lì non serve Lì in mezzo Cosa? No si mettilo Vai Per estetica Esatto 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 Vai 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 Ok allora quindi dopo che si rialza questo Ora c'è la parte un po' pericolosa Ok quindi rischiamo di distruggere tutto Sì praticamente noi dobbiamo evitare che lava e acqua facciano l'ossidiana invece che funzionare normalmente Lo so adesso creeremo l'ossidiana Per farlo stiamo mettendo a due livelli diversi la lava e l'acqua quindi qua mettiamo la lava e dobbiamo fare così Ok Ok Mettere il secchiello di lava Vado? Sì Ok E a questo punto tu devi bloc... Bucare i tre blocchi sotto alla lava Ok Ok Dato che da qui è impossibile capire quando è bucato e riesco di fare un disastro Devi scendere Sì però un attimino se mi butto da qui crepo Noi buchiamo qua Ma l'abbiamo tutto storto Ah no questa aspetta un attimo Shut up Ah ribuchi di nuovo e rimetto il blocco Sì Vai non ce la faremo mai pronta vai Vai Ok È andato secondo te? Sì Aspetta Vai Ok Ok l'ultimo Adesso torniamo su e non c'è più la lava Mi sei rotto il piccone Aspetta Tieni Tieni Vai vai muoviti Prego E me lo dà pure in pietra Vai Allora Vai Ok Ok Torniamo su Torniamo su Non abbiamo una scaletta Purtroppo no Aspetta la creo io Perfetto 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 Adesso Adesso noi praticamente metti l'acqua da questa parte Ok anche l'acqua ovviamente Eccola qui Sì Adesso tappi tutto Eh faccio io Faccio io Faccio io Faccio io Non sapevo fare Allora praticamente è perché è un po' strano Devi tappare Tappa l'ultimo lì Così Poi metti tutti lì Praticamente devi lasciare solo questi tre liberi Non so come dirtelo Dannazione Quindi tappo qua Sì E quello Allora sono questi tre Esatto Mamma mia Allora Sei scarso a spiegare accidenti a te È difficilissimo da spiegare a voce Su Ora prendi il repeater Ce li ho già in mano Guarda Sono più brava di te Vieni da questa parte Ok Ok E ne metti Uno Due E tre Quindi uno Due Togliti E tre Adesso fai tre tic Uno Tasto destro Mai tic in faccia Tasto destro Lo so Lo so Lo so questo Dai Uno Due Tre Si crede anche esperto Cioè davvero Redstone qui Aspen non ho preso la redstone Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Redstone Redstone Repeater qua dove sei E tu Qua Si Ok Due tac Uno Due Poi redstone 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 Ok E infine qua Si mette questa torcia E la si distrugge Se il circuito lampeggia Vuol dire che funziona Quindi abbiamo fatto tutto Ed è finito questo incubo Teoricamente adesso scendiamo Quindi buttiamoci di sotto Ok ridami il mio piccone però Perché me l'hai Ok A te l'onore di testare Se funziona Aspetta che buttiamo giù Questa scaletta Che tanto è inutile È davvero bruttissima Io adesso so già Che picconerò Verremo inondati Dalla lava Moriremo tutti E la mia isola Verrà distrutta Vai Prova Ok Non funziona Sì Ah sì Sì aspetta 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 Ah mi sa che non funziona uno Ok Sì Ne funzionano due su tre Non so come abbiamo fatto Ma va bene Mi sembra un giusto compromesso Ok No dai cerchiamo più Di farlo funzionare Mi sta che secondo me Abbiamo bucato qualcosa male Con la lava Ok Quindi allora Prova a bucarmi questo Vai Quale? Questo? Sei pronto tu? Il primo di sinistra Sì Vai Il secondo Ricontrolliamoli tutti Ok Ok il terzo Ma vedi ci siamo Che strano Però secondo me È un buon traguardo Dai No Dai sì Due su tre è buono Fammi non funzionare Scusa ma vai Mina Tu prova Stai fermo e Mina Stai fermo e Mina Mina Ok vai vai Immobile così tenendo premuto Guarda che bello Guarda vedi È un pacco incredibile Questa cosa Rispetto a quello normale È un pacco incredibile Consolini aiutatemi E ditemi cosa ho sbagliato Steph E fatemi capire Cosa devo correggere Per farli funzionare Tutte e tre Perché di redstone Non capisco una ceppa E come vedete anche Steph Non ne capisce una ceppa Quindi aiutatemi Perché io lo voglio da tre È la miglior cosa mai fatta Comunque dai Direi che ci possiamo fermare così Più che altro Fatteci sapere nei commenti Se vi piace Questa specie di spiegazione Non spiegazione No non vi piace vero Che confonderti che spiegare Non vi piace vero No è neanche a me Lo so lo so Allora con altre cose Giuro che potrei essere Un po' più bravo a spiegare Con questo Mi hai fatto fare sto proprio gigante Che è davvero la cosa Più brutta Che abbia mai vista Non si può fare anche bello Cioè più grande del negozio Davvero è bruttissimo Che colpa ne ho Almeno funziona Più o meno Due su tre Comunque ci fermiamo così Sondaggino Commenti Likes Fateci sapere appunto Se vi è piaciuto questo Diciamo esperimentino Di spiegazione In diretta E ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi riesci così Se ci sono scelteci un like E se la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao